Ciao a tutti ragazzi sono Epitriaper e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. Questo ragazzi non sarà un vero e proprio episodio, bensì sarà un semi-episodio, ovvero un episodio all'interno del quale vi darò delle informazioni e delle novità per quanto riguarda la serie o il canale in generale, anche se credo onestamente che vi possano appunto interessare queste informazioni. Prima di cominciare ragazzi volevo dirvi che ieri, ovvero venerdì, avevo già cominciato a registrare il nuovo episodio, non vi spoilererò niente perché comunque uscirà un episodio in cui appunto vedrete cos'è questa struttura, ma comunque mentre appunto stavo costruendo questa struttura e praticamente poco dopo aver finito lo scheletro della struttura sono arrivati quelli che devono fare i lavori in casa. Infatti ragazzi in questo periodo mi devono rifare i bagni e il saluto di casa, quindi se vedrete un'inattività abbastanza frequente sul canale per esempio in un carico video per 3-4 giorni, è semplicemente per il fatto che appunto ci saranno dei lavori in casa e i lavori iniziano praticamente alle 9 di mattina e finiscono alle 5 del pomeriggio. Adesso sto registrando se tutto va bene alle 8 e mezza, quindi tra mezz'ora arriveranno i lavori in casa e spero di registrare tutto velocemente. Non volevo dirvi soltanto questo, infatti ci sono ancora un pochino di informazioni e volevo parlarvene più che altro. Tra le informazioni più interessanti ragazzi ci sono quella del server che in molti mi state chiedendo recentemente e volevo dirvi che il server che sto costruendo su PlayStation 4 sta procedendo abbastanza bene, quindi anche se non vedete più video di aggiornamento per quanto riguarda il server lo sto continuando a costruire, mi sta dando anche una mano pazzerello che è un mio amico che di solito lui si dedica alle pixel art e diciamo che appunto sta procedendo abbastanza bene e se tutto procede appunto come sta procedendo adesso tra un mesetto barra due mesetti potreste essere in grado di giocare all'interno del server. Parlando di server ragazzi ho intenzione anche di fare dell'open lobby sui mini games di Minecraft come faccio su Call of Duty in maniera tale che possa interagire anche con quelli di voi che magari hanno Minecraft e non hanno code. Quindi ragazzi d'ora in poi se mi vedete online e vedete che potete entrare sia in sessione che in party su Minecraft, entrate pure perché probabilmente registrarò magari dei random moments insieme a voi, visto che comunque ultimamente me l'avete chiesto in molti anche di fare delle open lobby, dei random moments con gli iscritti. Volevo anche dirvi ragazzi che avevo intenzione di fare qualche cambiamento alla stanza degli iscritti, infatti ragazzi avevo intenzione di creare una nuova stanza degli iscritti. Molti di voi mi hanno consigliato di creare la stanza magari interrata in una montagna e di spostare lì anche il libro, in quanto comunque i cartelli qua diciamo che erano dedicati alle prime persone che erano presenti sul canale, comunque come potete vedere non c'è praticamente più spazio per raggiungere gente alla stanza degli iscritti. Quindi a molti di voi era venuto in mente di creare un'altra, i cartelli li utilizzeremo per le idee che mi avete consigliato. Infatti ragazzi nello scorso episodio, ovvero il World Tour, tutti voi mi avete consigliato una marea di idee che ho intenzione di fare per la maggior parte. Invece che darvi i crediti magari appennendo un cartello davanti appunto alla vostra creazione, ho deciso che magari con la nuova stanza degli iscritti sarebbe anche più carino magari appendere con un cartello la vostra idea che avete scritto e sotto il vostro nome, in maniera tale che ogni volta che entreremo nella stanza degli iscritti per raggiungere qualcuno di voi all'interno del libro, nella nuova stanza degli iscritti intendo, si potrà vedere appunto chi mi ha consigliato cosa e cosa ci ha consigliato di fare e come farlo. Quindi onestamente credo che sia una cosa abbastanza carina. Volevo anche dirvi ragazzi che appunto per quanto riguarda le vostre idee sono tutte magnifiche, quelle che mi avete consigliato nello scorso episodio e che qualcuna mi sono già preparato per costruirla. Diciamo che quella che sto costruendo adesso ragazzi non vi voglio dare spoiler ma è una delle vostre idee mischiata con quella di un altro ragazzo. Quindi non vi voglio dire precisamente che cos'è, diciamo che comunque vi ho dato un indizio abbastanza carino se si può dire così. Per quanto riguarda ragazzi invece le FAQ e magari il Q&A che sono praticamente le domande risposte, il Q&A mentre le FAQ sono le domande fatte più frequentemente. Volevo dire ragazzi che se ad ora in poi sotto ogni video magari commentate hashtag Q&A che si scrive così come vi ho fatto vedere ora sullo schermo e mi proponete una domanda potrei rispondere a questa domanda appunto in uno dei prossimi Q&A. Ho intenzione di fare queste risposte in maniera molto sarcastica e se poi magari ci sono delle domande serie risponderò seriamente. Comunque potete farmi qualsiasi tipo di domanda, le sceglierò completamente casualmente. Per quanto riguarda invece l'episodio direi che le informazioni che vi volevo dare, le novità e tutto, mi sembra di avervi detto tutto quello che c'è da dire, quindi ora vado nella stanza degli iscritti, faccio i saluti e aggiungo gli ultimi di voi. Scusate se magari questo episodio è stato abbastanza noioso ma onestamente queste informazioni mi sembravano abbastanza importanti da ridirvi e più che altro abbastanza interessanti. Quindi ragazzi ora aggiungo gli ultimi di voi e saluto gli ultimi di voi che me l'hanno chiesto e vedo di concludere l'episodio. Scusate ancora se magari non è stato come gli altri. E ragazzi rieccoci, come potete vedere ho aggiunto gli ultimi di voi che me l'hanno chiesto alla stanza degli iscritti. Se non ho scritto qualcuno di voi ragazzi vi prego di farmelo sapere nei commenti che così vi aggiungo nel prossimo episodio. Per quanto riguarda invece i saluti mi hanno chiesto di essere salutati Oriz, XN Zassi, Foxcraft Official e Maro06. Quindi ciao ragazzi. Io comunque ragazzi spero che questo episodio nonostante abbia dato soltanto delle informazioni e abbia aggiunto e salutato gli ultimi di voi che me l'hanno chiesto alla stanza degli iscritti vi sia piaciuto. Ho intenzione anche di fare la playlist della serie del canale di Minecraft in maniera tale che così magari chi è nuovo può guardare tranquillamente i primi episodi in maniera tale che possa anche vedere com'è cresciuto il mondo. Io comunque ragazzi come sempre voglio augurarvi una buona giornata, una buona serata e ragazzi ci vediamo nel prossimo video che sarà di costruzione per quanto riguarda la struttura che avete visto prima. Ciao a tutti ragazzi.